ciao a tutti lei mi tiene qualcosa nascosto chi fosse interessato davvero una risposta a questa domanda seguo il video nel frattempo iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo termasco iscriviti al nuovo canale felicità benessere di posto e link descrizione mescoliamo le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali la carta 1 la carta 2 la carta 3 e la carta 4 concentrati su questa lei della quale vuoi sapere se ti tiene qualcosa nascosto dopo di che scegli la carta 1 la carta 2 la carta 3 la carta 4 perché ho scelto la carta 1 beh sì qualcosa che ti terrà nascosto c'è e qualcosa che ti darà anche abbastanza fastidio non un qualcosa di eclatante ma qualcosa sicuramente sì che ha scelto la carta 2 ma è una persona che è coinvolta e innamorata di te quindi probabilmente ti tiene un po' nascosto ancora i suoi sentimenti che ha scelto la carta 3 ti tiene nascosto un sacco di cose una persona estremamente ambigua e manipolativa che ha scelto la carta 4 ma ti tiene nascosto il fatto che probabilmente non è che sei proprio al centro dei suoi pensieri per questo video è tutto seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco iscriviti al canale iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione ciao a tutti